E' arrivato l'arrotino, arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto, donne, e' arrivato l'arrotino ed ombrellaio, aggiustiamo gli ombrelli, ripariamo cucine a gas, abbiamo i pezzi di ricambio per le cucine a gas, se avete perdite di gas noi le aggiustiamo, se la cucina fa fumo, noi togliamo il fumo della vostra cucina. E' arrivato l'arrotino, arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto, donne, e' arrivato l'arrotino ed ombrellaio, aggiustiamo gli ombrelli, l'ombrellaio donne, ripariamo cucine a gas, abbiamo i pezzi di ricambio per le cucine a gas, se avete perdite di gas noi le aggiustiamo, Se la cucina fa fumo, noi togliamo il fumo del lavoro, e' arrivato l'arrotino, arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto, donne, e' arrivato l'arrotino ed ombrellaio, aggiustiamo gli ombrelli, ripariamo cucine a gas, abbiamo i pezzi di ricambio per le cucine a gas, se avete perdite di gas noi le aggiustiamo, Se la cucina fa fumo, noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas, e' arrivato l'arrotino, arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto, donne, e' arrivato l'arrotino ed ombrellaio, aggiustiamo gli ombrelli, l'ombrellaio donne, ripariamo cucine a gas, abbiamo i pezzi di ricambio per le cucine a gas, Se avete perdite di gas, noi le aggiustiamo, e' arrivato l'arrotino, arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto, donne, e' arrivato l'arrotino ed ombrellaio, aggiustiamo gli ombrelli, ripariamo cucine a gas, abbiamo i pezzi di ricambio per le cucine a gas, Se avete perdite di gas, noi le aggiustiamo, se la cucina fa fumo, noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas, e' arrivato l'arrotino, arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto,